Amici, torrani Cinema Days, ovvero dall'11 al 14 di aprile, il biglietto del cinema costa solo 3 euro. Per tutti gli spettacoli dall'11 al 14 di aprile, e se sono film in 3D, 5 euro. E' un'occasione imperdibile per tutti noi che andiamo al cinema. Più omaggio di Vasco di così, correte al cinema.